Senti, ancora una domanda di politica. Volevo chiederti su quello che pensi di politica di destra, l'hai detto tante volte, quindi non starò neanche a richiedertelo, lo stai dicendo anche stasera, ma ti volevo chiedere di elishline, cioè molti, anche io ti confesso un po', pensiamo che non sia capace di prendere i voti dei ceti popolari, sia per il modo che ha di comunicare, sia per proprio la sua storia. Tu pensi di sì oppure pensi che abbia, possa riuscire in questa campagna elettorale ad avere, come invece ha Giorgia, la capacità di entrare in empatia, come si dice adesso, con i ceti più popolari? Può riuscire ovviamente deve andare in una direzione programmatica diversa. E parlare di più di lavoro, di sociali. Esattamente, e deve anche avere la possibilità di farlo. In che senso la possibilità? E anche deve controllare il partito, cosa che non fa, cosa che o non le permettono di fare. Nel senso che tu hai la possibilità, secondo me può, in questo senso può farlo, ma deve riuscire a centrare la questione lavoro. Deve riuscire a, e può farlo forse più di altri, a connettere sul sud una nuova visione, cioè la possibilità di considerare il diritto, non come viene visto oggi un orpello spesso dai ceti popolari, se parlate dei gay, parlate degli immigrati, sì va anche bene, ma qui c'è sicurezza, mutui, tasse. Sì, la vita quotidiana, concreta. In realtà si dibatte di questo, eppure non sembrano i punti cardine del dibattito elettorale. Sì, nella comunicazione non arrivano. Ma si può. E lo spazio c'è, c'è proprio perché, in qualche modo, lo spero, potrebbe incarnare la sintesi tra le due vocazioni di quell'area politica. Da un lato i diritti mai slegati, i diritti civili, mai slegati dai diritti sociali. E quindi... Grande tema di questioni, no? E poi spero che torni il dibattito sulla questione... La prima economia del paese è l'economia criminale, ma lo dichiara lo Stato. È la prima economia del paese. Sì, sì, è un grande non detto che ci... Le organizzazioni criminali fatturano il doppio della Eni, l'espressione fatturare è solo simbolica, per dire guadagnano. E com'è possibile che tutto questo è sparito dal dibattito? Non c'è nulla. A vedere i dati del PIL ti chiedi come non c'è la rivoluzione in questo paese, perché eventualmente c'è un altro PIL che comunque gira nel paese. Ci sono altri soldi, quelli in nero, che girano. Esattamente. Andiamo dall'altra parte.